Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica che tratta un tema molto sentito, il tema della gamma dinamica, cioè dell'ossessione un po' che abbiamo per la gamma dinamica. Prima di questo alcune informazioni di servizio veloci, prima di tutto iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ogni settimana pubblichiamo diversi contenuti inerenti al mondo della fotografia e il mondo del video, quindi iscriviti, spunta la campanellina così rimanai aggiornato sui nostri contenuti che speriamo possono aiutarti a migliorare sia le tue foto sia i tuoi video se sei anche un amante del video. Ti ricordo anche che l'audio almeno di questi video, di queste riflessioni fotografiche, le puoi ascoltare in versione podcast, vai sulla tua piattaforma preferita e cerca riflessioni fotografiche, insomma ci trovi e puoi ascoltare ripeto la versione audio dei video, di alcuni video che pubblichiamo sul nostro canale. Ti ricordo anche che in descrizione a questo video lascio i link ai nostri corsi online, dallo scatto alla stampa Fine Art e il corso Bianca e Nero Fine Art. Se tu clicchi sul link vai sulla pagina di presentazione, ci sono dei video che ti spiegano il perché e per come può essere un'opportunità per te e voglio anche ringraziare pubblicamente tutti coloro, le centenaglie di persone che già si sono iscritti e che concretamente ci date la possibilità di continuare a creare e a pubblicare contenuti sui canali social, youtube come in questo caso, ma anche il blog promiroles.it e anche facebook gruppo promiroles. Bene, torniamo a bomba sull'argomento gamma dinamica. È un'ossessione? Sì, è un'ossessione in parte legittima perché credo che tutti quanti noi sono fotografi digitali e che magari sono passati dall'analogico a digitale hanno avuto difficoltà o a volte hanno difficoltà nel gestire situazioni ad alto contrasto e quindi c'è un'ossessione oggettiva, c'è un bisogno oggettivo. Poi questa ossessione è chiaramente pompata, alimentata anche dai costruttori o di alcuni, diciamo, laboratori più o meno indipendenti che fanno i loro test e pubblicano dati mirabolanti. Leggevo, mi è venuta in mente questa riflessione fotografica proprio perché leggevo un test fatto da Lab Laboratorio di XO, insomma uno dei laboratori più famosi, che afferma, dichiara che la Assembland 1XD, insomma Mark II, sembra che questa sia la sigla, comunque l'ultima fotocamera medio formato mirrorless di Assembland, è in grado di raggiungere addirittura 14.8 stop di gamma dinamica a 100 ISO, che è un risultato pazzesco, anche i produttori dichiarano 15 stop, 16 stop, 13 stop, come se fosse praticamente acqua fresca. Cioè dichiarazioni incredibili che alla fin fine tutti quanti noi dei dubbi ci vengono, o meglio alcuni ci credono, cioè alcuni non riflettono, oppure non hanno esperienza per poter capire che questo valore è assolutamente virtuale, non sto dicendo che sia falso, sto dicendo che è virtuale, adesso provo a spiegherò perché, ma all'atto pratico in digitale c'è sempre un grosso problema nel gestire le scene ad alto contrasto, soprattutto le alte luci. Questa è la dura e cruda verità. Il digitale, che ci piaccia o no, ha una gamma dinamica reale, quindi realmente utilizzabile, di più 2 se va bene nelle alte luci, meno 4 se va bene nelle ombre. Quindi abbiamo circa 6 stop. I migliori sensori arriveranno a 7 stop di gamma dinamica, 5 stop nelle ombre e 2 nelle alte luci. Sostanzialmente siamo lì. Questa è la coperta, una coperta abbastanza piccola, in alcuni casi infiltrita, quindi anche difficile, in sostanza, da stiracchiare, da strecciare, ma questa è la verità. Quindi abbiamo a che fare con un valore ben lungi da quello che viene dichiarato spesso, in altri casi produttrici o da alcuni laboratori. Stanno dichiarando il falso? No. È semplicemente che il test che viene fatto, spesso anche a monte della demostracizzazione, quindi prendendo l'analisi di un segnale puro, insomma, in qualche modo, captato dal sensore, è assolutamente virtuale e non serve assolutamente a nulla. È forviante e serve solo alle vendite, perché uno dice wow, 15 stop, va, la compro, ho risolto tutti i problemi. La verità non è così. Quindi questo è un fattore piuttosto reale, piuttosto oggettivo ed è uno, realmente, ragazzi, dei problemi della fotografia digitale, almeno ad oggi. Infatti io credo che sicuramente negli ultimi 15 anni, 20 anni, ma diciamo 15 anni, ad oggi, diciamo dal 2003 circa, insomma, dalla nascita delle prime reflex digitali più evolute, sicuramente c'è stata dell'evoluzione, ci sono stati dei miglioramenti per quanto riguarda la gamma dinamica, i sensori a livello hardware sono stati ottimizzati, perfezionati, la circuiteria è stata, come dire, ottimizzata per evitare che si crei del rumore, eccetera, eccetera. Questo io non dico che non sia così. Va anche detto che c'è stata anche una grande evoluzione dei software di conversione RAW e lo dimostra il fatto che se voi prendete, magari un file, se avete scattato, se scattate da parecchi anni in digitale, prendete un file delle vecchie fotocamere digitali, l'ho andata a riprire oggi con i migliori convertitori RAW e come se i file avesse una nuova giovinezza, come se quella fotocamera fosse stata, avesse un sensore molto più moderno di quanto ricordavate. Perché? Perché chiaramente anche i convertitori RAW si sono evoluti enormemente. Recentemente Dixo ha pubblicato, insomma ha pubblicato, ha reso disponibile un nuovo software, il Dixo più RAW, che praticamente applica un algoritmo per migliorare notevolmente la demostracizzazione e anche la riduzione del rumore, oltre che il micro dettaglio e praticamente fotocamere del 2009, 2008, 2007, insomma di diverso tempo fa, che sono ovviamente compatibili con il software, sembra come se fossero fotocamere recentissime. Quindi il software ha un peso importantissimo e avrà un peso ancora più importante, ma magari ne parlo di una riflessione fotografica separata. Quindi in sostanza sicuramente c'è stato un progresso negli anni a livello hardware, un grande progresso a livello software, ma purtroppo il digitale è rimasto limitato di fatto su un aspetto, che è un aspetto chiave però per la qualità d'immagine, che è la gamma dinamica nelle alte luci. Se noi torniamo indietro ai tempi, diciamo, della pellicola, anzi torniamo indietro, facciamo un parallelo con l'analogico, perché l'analogico grazie a Dio esiste, nella pellicola positiva, le famose diapositive, sostanzialmente la gamma dinamica era un po' quella da sensori digitali, forse era anche addirittura peggio in alcuni casi. Quindi avevi chiaramente un margine, una coperta molto corta, diciamo circa cinque stop, e dovevi essere molto bravo a tenere in gamma soprattutto le alte luci. Tant'è che si diceva sviluppa per le luci, no? Questo faceva sì che a volte i neri erano profondi, le ombre si chiudevano, ma davano anche un look particolare. Tenete conto poi che una diapositiva viene retroilluminata e essendo retroilluminata, insomma, col videoproiettore, no? Chiaramente dai, apri un pochino i neri, dai brillantezza all'immagine, eccetera, eccetera. Cosa diversa per la stampa. Le pellicole negative, colore o bianco e nero, hanno una gamma dinamica ben diversa. Sicuramente nelle ombre la pellicola può fare più fatica rispetto al digitale, anche per un discorso, se vogliamo, di grana che può uscire fuori legata, insomma, ai sali d'argento, ma ha una spalla nelle alte luci davvero importante, molto superiore a quelle del digitale, anche i migliori sensori digitali, parliamo di capacità di coprire tranquillamente 3 stop, 4 e in alcuni casi anche 5 stop, magari con un piccolo aiutino in fase di sviluppo. Quindi sostanzialmente la coperta è molto più ampia, forse ha un pochino meno di margine nelle ombre, ma avere tanto margine nelle alte luci è davvero una manna dal cielo. È molto meglio, a mio giudizio, avere spalla nelle alte luci piuttosto che nelle ombre. E quindi se io posso schiarire le ombre, alla fine devo fare solo attenzione a non andare fuori scala con le alte luci. Sì, ragazzi, questo è vero, è quello che la maggior parte dei fotografi fanno, poi nel paesaggio si può applicare un filtro di gradante, insomma ci possono essere delle strategie, si possono applicare delle, una sorta di blending tra fotocamere, quindi diffusione tra fotografie, più che fotocamere, con una sovra, una sottoesposizione, si uniscono, eccetera, eccetera. Quindi ci sono sicuramente delle strategie che ci permettono di tamponare i limiti nelle alte luci ed avere un'immagine dal look con una gamma dinamica più ampia, dal look un pochino più naturale, verosimile, diciamo in questo modo. Però questo intanto ci fa capire che se devo ricorrere a queste strategie evidentemente c'è comunque un problema di gamma dinamica e questi famosi 13, 12, 15 stop poi non ci sono nella realtà, se non a livello, ripeto, virtuale in laboratorio. Seconda cosa, effettivamente se io faccio questo processo di schiarire le ombre, i rischi di avere un'immagine con un look da cartone animato, tra virgolette, è insomma molto elevato. Sicuramente vi sarà capitato anche a voi di vedere insomma sulla rete, non solo, immagini che, soprattutto paesaggistiche, dove spesso in quel caso c'è un grosso problema di gestione della gamma dinamica, immagini con ombre assolutamente troppo aperte oppure comunque con i mezzi toni impastati che hanno perso quella, come dire, quella brillantezza, quella chiarezza, quella luminosità che comunque i mezzi toni dovrebbero avere, le luci troppo recuperate e quindi anche lì si capisce che non sono a giusto livello di luminosità. Cioè in sostanza doverci mettere sempre una pezza, tra virgolette, aumenta notevolmente il rischio che fai delle cose poi di pessima qualità. E infatti diciamo la resa migliore ce l'hai, un po' anche questo avveniva a pellicola, quando tu cerchi di compensare, penso nella retratistica, questo divario di contrasto tra le alte luci e le ombre con l'aggiunta di una luce esiliaria, con un fill-in per quanto riguarda il flash, una luce continua, un pannello di schiarita eccetera eccetera. In questo modo cerchi di compensare, come avviene anche nel cinema per fare un esempio, insomma in tutte le produzioni più o meno professionali, cerchi di compensare questo contrasto. Ma perché fai tutto ciò? Perché la gamma dinamica in realtà ragazzi è limitata. Quindi non crediamo alle favolette di Babbo Natale, cioè apriamo gli occhi, svegliamoci, non facciamoci abbindolare da annunci mirabolanti di casi produttrici o di laboratori che hanno tutto l'interesse a chiaramente diffondere certi dati per incoraggiare la persona un pochino più meno attenta, meno accorta, con meno esperienza nel credere che con quel mezzo riuscirà ad avere una gamma dinamica immensa e enorme, quando nella realtà non è così. E soprattutto è da notare come ripeto, sono passati tanti anni, ma sostanzialmente il digitale ancora non ha fatto a mio giudizio due passi fondamentali. Uno appunto nella gestione delle alte luci, cioè nell'avere una spalla che permetta di recuperare, di tenere in gamma anche più di due stop diciamo massimi di differenza, di contrasto tra ombre e alte luci, anzi tra mezzi toni, cioè tra grigio medio e alte luci. E l'altra evoluzione importante che non è avvenuta nel mondo del digitale è il tema della profondità colore, cioè il superare questa maledettissima matrice Bayer, che ormai ci accompagna da quando è nata la fotografia digitale, è stata nata insieme alla fotografia digitale, proprio con i primi sensori digitali, e che ancora oggi comunque crea a mio giudizio un piccolo grande gap rispetto ad esempio alla fotografia analogica, proprio nella profondità colore, nella capacità di cogliere piccole sfumature e ne riprodurre soprattutto alcuni colori, tipo il verde, l'azzurro eccetera, in modo naturale, in modo più veritiero. Queste sono cose che magari se ne accorge più un occhio un pochino più clinico, un pochino più attento, magari un pochino meno altre persone, oppure semplicemente dice guarda a me non frega nulla, a me interessa l'immagine, non mi importa nulla se poi il verde si è più o meno autentico, però effettivamente secondo me nella fotografia, nelle macchine fotografiche c'è ancora questi due punti, questi due scogli che vanno superati, la profondità colore e il tema della gamma dinamica, soprattutto nelle alte luci. Una volta che verranno superati definitivamente questi due scogli, questi due attuali stop loss, cioè punti come dire, oltre il quale non si riesce ad andare, beh allora effettivamente ci sarà un grosso, secondo me un grosso salto generazionale. Quindi mi auguro che i prossimi sensori, insomma, di cui si ne parla, Roma da tempo come sensore organico, ad esempio di Pana Fuji, che stanno sviluppando insieme, possa ad esempio lavorare su questo, oppure che magari Sony tiri fuori un'altra magia dal suo cappello, oppure Canon, chiunque esso sia, non ha importanza, per veramente far fare un salto di qualità, un progresso ulteriore al mondo della fotografia digitale e aiutarci ad avvicinarci il più possibile, quantomeno ai plus della fotografia analogica, che erano, almeno nella fotografia negativa, era la gamma dinamica, soprattutto nelle alte luci e poi questa profondità nelle sfumature e colore, che insomma purtroppo non sempre riusciamo a vedere nelle nostre immagini digitali. Ok, questa era un po' la riflessione di oggi, appunto, su questa ossessione legata alla gamma dinamica, che spesso è indotta da test, ripeto, non falsi, assolutamente, ma sono test forvianti, e che in realtà, ripeto, la nostra coperta, più o meno corta, più o meno stiracchiata, è quella di, a mio giudizio, dei famosi 4, più o meno 2 stop sulle alte luci, 4 nelle ombre, due o meno alte luci. Vorrei sapere il tuo pensiero, se cosa ne pensi rispetto a quello che ti ho detto, qual è la tua esperienza, e se effettivamente non ti trovi con le dichiarazioni che spesso si leggono in rete. Aspetta i tuoi commenti, lascialo in descrizione al video, e ti ricordo anche i nostri corsi online, i link li trovi in descrizione, e se ti fa piacere iscriviti al canale. Ciao, ci vediamo alla prossima riflessione fotografica. Ciao ciao!